I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo hanno notificato al titolare di un ristorante medio-orientale, sito nel centro storico del capoluogo, il provvedimento di chiusura dell'attività emesso dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP in seguito all'ispezione condotta dai militari e dai tecnici della prevenzione, la verifica dell'esercizio commerciale svolta dal NAS di Palermo nell'ambito della più ampia strategia di controllo a livello nazionale sugli illeciti commessi nel settore della ristorazione e della somministrazione e vendita di alimenti in genere disposta dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, scaturisce dalle segnalazioni indirizzate ai militari da alcuni cittadini che avrebbero accusato malessere, tanto da ricorrere alle cure dei sanitari, dopo avere consumato cibo acquistato presso la ristorazione in argomento. Durante il controllo, gli specialisti dei carabinieri e i tecnici della prevenzione dell'ASP hanno riscontrato rilevanti carenze igieniche del locale, che unitamente alla mancanza di identificazione e tracciabilità delle preparazioni alimentari impropriamente conservate e sottoposte a sequestro, hanno determinato l'ASP, al fine di tutelare la salute pubblica, a procedere all'immediata sospensione dell'attività, mentre i carabinieri del NAS hanno elevato alcune sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del titolare.